Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Mi occorre che vada consegnato subito se farete in fretta vi ripagherò bene Buona giornata Venite stimati clienti la mia perce potrà farirvi costosa Non volevo mancarvi di rispetto Ma che si prende? Mi avete scambiato per un altro Grazie Consegnatelo per me in tempo e vi ripagherò generosamente Diamine Lasci... Mercorego lasciatemi stare E' un piatto a canale Aiuto Sono vostro amico Vi prego Ho di certo qualche cercate Un momento Vado a vedere Vitello, maiale, conto Rattissimo Vado a vedere molte grazie andiamo eh grazie 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 potete consegnarlo per me? se farete in fretta vi ricompenserò avviso a causa della penuria di uomini validi dovuta alla recente campagna militare e alla pestilenza qui ci sono le vesti migliori al mondo altro che Milano vattene via dal mio terreno grazie 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 che diavolo sta facendo? piuttosto rischioso direi grazie 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 Grazie. A ladro, prendete quel bastardo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.